E dopo ho mangiato, andiamo a letto Sono arrivato, andiamo a letto, stiamo assieme Andiamo a letto? Andiamo a vedere il film Lo facciamo di bello Il film, come conta niente, sentite, andiamo a vedere il film Dopo 5 minuti Grazie Benny Che cosa? Poi sta il brillante, come lo tocco dentro Eh? O se mi muovo, perché ci prendiamo la mano così Mi muovo, si apre e fa Eh? Vado a vedere la cosa Cosa? Vado a vedere la stufa Poi dormi, ti dico, la 10.35 Devi registrare Amo Non li faccio? Allora dormi Tutto acceso E allora io dopo ho spento tutto e gli faccio l'unculato No, abbiamo il culato cosa? Grazie Byron E gli faccio Grazie Togli il secondo cuscino Ah, visto che tutto è spento, non hai registrato Devo dirti una cosa importante, amo Siamo arrivati a 100.000 iscritti su Twitch, amo Ma perché è tutto schermo? Amo, vuoi ringraziare Cosa ne pensi di questi 100.000 iscritti su Twitch? Ah, pensavo a una proposta più interessante Possiamo andare a mangiare la pizza se vuoi Questa è la migliore che posso farti Se vuole la pezione Oh, qualche miseria Siamo arrivati a 100... Grazie mille a Byron Siamo arrivati a 100.000 iscritti su Twitch Cosa ne pensi di questo traguardo raggiunto? Io devo pensare Vorrei sapere il tuo punto di vista Sei soddisfatta? Sei contenta? E cos'è? Si Parla con i ragazzi Non lo so, non lo so Tanto non posso parlare e dire perché se no... Puoi dire quello che vuoi puoi dire Tanto stare con una persona così che già si loda da mille Ma mi ha dato da mille, nel senso sto semplicemente dicendo Se siamo arrivati... Sei arrivato perché io non sono qua con te tutto il giugno E su quello non c'è dubbio perché altrimenti ti impazzirei e spaccherei le cose Ma sto dicendo 100.000 iscritti su Twitch meritano questi ragazzi un discorso da parte mia e da parte tua No, da parte mia no perché io non ci sono mai Ma tu non vuoi dire qualche cosa per averci aiutato in questo traguardo raggiunto, questa soddisfazione personale e probabilmente anche di coppia Di coppia poco Di coppia poco E lui gli piace quando mi incazzavo perché così almeno gli alzava l'odio Nel 2016... No Mi hai fatto chiudere con 8.000 spettatori ti ricordo No, anche quando c'era il buco nero Il buco nero E io mi incazzavo come una schifosa Mi hai fatto chiudere con 8.000 spettatori Mi ha fatto chiudere allora io voglio di nuovo ringraziare in primis tutti voi ragazzi che siete qua Oggigiorno a guardare A guardare la live I secundis ragazzi sempre tutti voi che state anche a sopportare a divertirvi un pochettino La pamina la pamina ragazzi guardate con questa faccia da angioletto a prenderla a pugni Come si dice che sempre incazzata lei non le andrà bene niente ma davvero grazie 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 Perché i 100.000 iscritti su twitch sono Un traguardone in quanti mesi? In cinque mesi e sei giorni Allora per lui è un traguardone della madonna perché ha bruciato tutte le tappe Purtroppo non ho bruciato le calorie ho bruciato solamente le tappe Perché qua ingrazza sempre Non fa come me che dieta Ecco vorrei un attimo aprire questo discorso Non è perché tu fai la dieta io devo fare la dieta Sì ragazzi gli è venuta la panza Gli è venuto il doppio Gli è venuto qua Cosa? Non c'ha più anche Su tutti i lati è una carenza La banana è sempre la banana L'effetto curati Ma non è vero che cavolo stai dicendo E la notte pure Ma non è assolutamente vera questa cosa stavo dicendo Non andiamo a mettere false le azioni Davvero grazie ragazzi grazie a tutti perché è stata una figata Non è che rivela cose E lei che dice cosa Grazie che lo sopportate anche le sue stronzate L'altra sera non diceva questa cosa non mi ricordo Mi sembra Un'altra sera Beh tu come dormi Oh la prossima volta io ti registro che mentre dormi scorengi Quindi vuoi vedere che ti metto su YouTube il video Di te che fai una russata e un peto E' una cosa improrogabile questa cosa Io non dico assolutamente niente Perché bene però non puoi fare Ma non è vero Cosa? Cosa? Non è vero L'ugeto di Capodanno proprio Fottechiglio Ma è assolutamente vero Non ci si può neanche coprire Stiamo trascendendo Tampo sotto le coperte che è incredibile Non vi dico lui quando le molla Pure a tavola che mi manda in bestia Pure a tavola ragazzi E quando in bagno non mette il deodorante Si sente fino al vomito in cucina No quello è il cane non è il Non sono io assolutamente Quando ti sto vicino A Capodanno non abbiamo comprato i fuochi Perché ci ha pensato alla pami di notte nel senso E' vero ma non devi dire certe cose Ma cosa stai dicendo? No comunque adesso per chiudere ragazzi Per chiudere grazie davvero Grazie di cuore e speriamo Quali sono i propositi di questo canale Twitchiamo Vabbè se tu cosa Cosa vorresti che succedesse Con il tuo canale? Si Che streamassi un po' di meno Che mi dedicasse un po' più di tempo Ok Eh perché tanto voglio dire Gli bastano su un tot di ore Grazie Andrea Grazie mille Andrea Maaa Miroslav non era lui che faceva quella canzone Era sotto Sorride un attimo in cam Fammi la faccia da incazzata Perché? Indicandomi Indicami Abbiamo fatto la copertina così easy Eeeh E quindi ragazzi Insomma va bene ragazzi Allora grazie mille Grazie mille davvero a tutti E speriamo che questi centomila Siano semplicemente La punta dell'iceberg Per arrivare a un Milione E dai eeeh